E' anni che sono su TikTok, mai una parola, mai una parola, sono l'amica di tutti, manco un saluto a tutti, per chi vuole più bene a tutti, è vero, ve lo dico con cuore, mai una volta ho avuto un battipetto con qualcuno, mai, perché io mi faccio il mio, a gente può fare chi più vuole, io li ammiro a tutti, faccio va bene, ma ognuno si espone come vuole, mi interessa, io sono l'amica di tutti. E quindi, con Francesca che è un'amica nostra, io volevo chiamare, questa è una cosa personale, mia del Conte, Nancy G. Millaro, che sicuramente conoscete tutti, è una nostra amica, l'abbiamo conosciuta tramite un social, e oggi è una nostra grande amica, a parte lei c'è anche Vanessa Di Mase che in questo momento non c'è, non è potuta venire, quindi ricordatevi sempre, meno cattiveria, più bontà, più amicizia, e magari se avete una critica non costruttiva, meglio non fatela, anziché scrivere a bambera, solo per dire cattiveria. Buonanotte a tutti, sì. Scusate ragazzi, scusate e poi mi asciugno. Ah no no, se parla Nancy, silenzio! Voglio dire soltanto una cosa, innanzitutto complimenti a tutti ragazzi, Francesca, ragazzi siete veramente, io sono sempre orgogliosa di voi, come se fosse parte della mia famiglia, veramente. Grazie. Perché ho scoperto delle persone veramente buone, sincere, leali, che se gli dai tanto, ti danno tantissimo, e quindi come penso siamo un po' tutti nella vita, chi ci fa bene facciamo bene, chi ci fa male purtroppo la vita è fatta. Io forse l'unico sbaglio, cioè nel senso sbaglio, è una cosa, io vedo un buono in tutti. Hai sbagliato. Lo so, ma io vedo un buono in tutti, io faccio una cosa, io Armando, lui è quello buono in tutti. Ah no, io non lo faccio, ognuno ha avuto i suoi caratteri, ma l'importante è la pace, amici non c'è niente, la pace, la pace, vogliamoci bene, magari che non ne conosciamo, perché non c'è niente. Bisogna avere anche un occhio critico, perché comunque dobbiamo saperci circondare delle giuste persone ragazzi, no? E soprattutto quello che dico ogni volta che non riesco a capire, perché questo odio attraverso i social, possibilmente di una persona che tu sai un quarto della sua vita, non è giusto, non è corretto, mettiamoci nei panni degli altri, non siamo nella vita degli altri, e soprattutto se dobbiamo dire, per forza ci teniamo a dire per forza una cosa, esprimere un parere, farlo con educazione, rispetto e di metterci le palle. E ricordiamoci che dall'altra parte ci sono persone, esseri umani, non ci sono macchine, voi vedete dei video di un minuto, due minuti, tre minuti, ma dall'altra parte ci sono vite, vite vissute 24 ore su 24 e non un minuto, due minuti, tre minuti. Infatti amici, da me si nota che io anche quando vengo insultata, vengo criticata, a volte anche pesantemente rispondo sempre con una parola dolce, cioè non metto mai... Ironia, ironia, ironia. Che non c'è cosa più bella, io ironizzo, scherzo sempre, faccio le viste a ammazzare, no, le ammazzo, ci rito. Ragazzi, già la vita è piena di problemi. Non le dico perché stanno facendo quella critica, per un minuto chi si sente, chi hanno, ognuno di noi ha i nostri problemi, ce li abbiamo tutti i problemi a casa, amici. Chi di più, chi di meno, anche noi che ridiamo sempre, abbiamo problemi a casa. E io sono stata l'esempio, io sono stata tre o quattro anni sola, io ho appena brutta vita, cioè nel senso, ho dimostrato, ho messo l'azzo... Questo è il riscatto però, Francesca. Ho messo in atto, ho messo in atto su social, mezza mia vita, giusto? Vieni criticata, magari picchissimo, regalisci noi, anzi caporeggia stariremmo. No, magari picchissimo. Quindi, ringraziando Liliana, che è l'organizzatrice di questa fantastica serata. Un applauso a Liliana. Mi raccomando, utilizzate i social con criterio e vi auguriamo buonanotte. Buonanotte a tutti! Alla prossima! Buonanotte! E grazie a tutti per essere stati qua presenti.